La nuova UEFA Champions League comincia la sfida. E ci sono cinque italiane per la prima volta. Capitano Lautaro, siamo tutti incontro a tutti! Per la classifica unica, vamos a ganare! Sono le più forti. Non pensavo di incontrarle subito. Corpo di mille palloni, è immenso. Il vichingo! Canonieri pronti! È mia! Sta succedendo di tutto. E lo vedremo insieme. Più squadre, più calcio, più spettacolo. La nuova UEFA Champions League. Solo su Sky Sport, il più grande spettacolo del mondo. La nuova UEFA Champions League. Più squadre!